Un'edizione da record, quella di Percevuti 2019, che ha visto riversarsi per le stradine del Borgo di Mormanno centinaia di visitatori provenienti da tutta la Calabria. Quattro cantine, cui sono state abbinate quattro grandi realtà vitivinicole, immerse tra antichi sapori e vecchie tradizioni. Lo scopo, perfettamente raggiunto anche in questa diciassettesima edizione, è quello di far riscoprire il gusto di una manifestazione che nasce come una semplice sagra di paese, diventando oggi un evento cardine per l'enogastronomia del Pollino. Si aprono le cantine, si aprono i vuttari, la gente inizierà ad assaporare il buon cibo, il buon vino, delle cantine vitivinicole d'eccellenza calabresi, con il concerto in piazza, il solito concerto ma che di anno in anno cambia volto, cambia musica e cambia qualità. Dunque Percevuti si conferma ancora una volta essere un evento che può attrarre turisti e può dare ricadute importanti. Non a caso i nostri attori principali, gli operatori economici del mondo ricettivo, sono tutti full a Mormanno, ma la cosa bella che ci inorgoglisce è che anche al di fuori di Mormanno e dunque sul nostro territorio i B&B, gli hotel, i ristoranti sono tutti pieni per la festa di Perciagotti. Per noi è una tradizione che diventa evento culturale e turistico. Una dicesettesima edizione che noi abbiamo voluto aprire con questo momento di riflessione tra tutti gli attori, istituzioni, imprenditori, con la realtà slow food che è una realtà importante, con tantissime cantine presenti per la degustazione. Una dicesettesima edizione che ci permette di promuovere le nostre eccellenze. Stasera parleremo del poverello bianco, parleremo del magliocco, ma sono tante le eccellenze del nostro territorio che diventano identità territoriale perché non raccontano solo il prodotto in sé, ma raccontano l'intero territorio.